Ciao e bentornati, io sono Valerio Novara di Ciacchiazione e oggi vi voglio raccontare un po' di scene da un matrimonio, la miniserie di 5 puntate che è andata in onda su Sky fra ottobre e novembre. L'ho recuperata di recente perché ero molto incuriosito di vederla dato che ai Golden Globe erano stati nominati i due protagonisti, Oscar Isaac come miglior attore protagonista in una miniserie e Jessica Chastain miglior attrice appunto in una miniserie. Entrambi non hanno vinto ai Golden Globe però ero molto curioso di recuperarla e sono riuscito a vederla in questi giorni e mi ha molto colpito. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdervi tutte le recensioni che stiamo portando avanti sui film e le serie tv del momento anche in vista dei premi Oscar quindi vi consiglio di attivare anche le notifiche per essere sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno e di seguirci sulle nostre pagine Facebook e Instagram di Chuck e Azione. Allora scene da un matrimonio. Diciamo subito che la miniserie è di 5 puntate che durano più o meno un'oretta ognuna ed è tratta dall'omonima miniserie di Ingmar Bergman del 1973, una miniserie svedese e parla di queste due persone, di questa coppia e di una famiglia che apparentemente sembra la famiglia perfetta, la cosiddetta famiglia del mulino bianco, hanno una bambina, loro due, sono sulla soglia dei 40 anni e la prima puntata inizia che rilasciano entrambi un'intervista ad una studentessa in cui raccontano un po' come sono in famiglia loro due, lui come marito, padre, come studioso, un accademico si definisce, mentre lei è una donna in carriera che sta avendo molto successo nell'azienda in cui lavora. E devo dire, mi sono piaciuti tantissimo sia Oscar a Isaac che mea culpa non conoscevo prima di Dune, per esempio, ma anche di Star Wars, ma l'ho rivalutato tantissimo perché è un bravissimo attore e anche Jessica Chastain che adoro e che seguo ormai da tempo, sono due attori di grandissimo livello e secondo me sono stati scelti benissimo per interpretare queste due persone e fare questa enorme storia legata alle sfaccettature di una coppia e del matrimonio in generale. E quindi è una situazione che si può venire a creare e a tanti tipi di debolezze di forza, di scontri e di capacità di girare intorno al tema che è quello dell'amore, di non riuscire a lasciarsi andare. La serie gira intorno all'eterno dramma del riuscire a tenere insieme le cose in una coppia contemporanea, anche perché il film è ambientato ai giorni nostri poco prima della pandemia. Mi è piaciuto molto il fatto che fosse stato girato in pandemia e si evince dall'inizio di ogni puntata in cui si vedono entrare sul set gli attori, cioè la camera segue proprio l'attore che entra sul set e dopo qualche secondo c'è il Chuck e si dà il via alla puntata e quindi alla registrazione della puntata vera e propria e si vedono tutti gli operatori con le mascherine. Insomma, una serie che, come dicevamo, parte da questa famiglia, da questa famiglia normalissima, una famiglia normale in cui sembra che è tutto perfetto quando a un certo punto arriva il cosiddetto fulmine al ciel sereno e parte tutto da lei, da questa donna che non vive il suo rapporto di coppia in modo spensierato, anzi si sente quasi sopraffatta, sia dal carattere del marito che fa un percorso, un cambiamento incredibile tra la prima e la quinta puntata. Ho visto, e in questo Oscar Isaac è stato molto bravo a far vedere dapprima l'uomo quasi catartico, quasi ormai entrato in un mood di padre, lavoratore, studioso, marito, amico, nel quale non si accorge che la moglie ha un'insofferenza, un'insofferenza che cela e che viene fuori all'inizio della seconda puntata perché è proprio lei che gli confessa di essersi innamorata di un'altra persona e in particolare di un ragazzo più piccolo che lavora insieme a lei insomma. Sarà un fulmine al ciel sereno perché lui viene preso proprio così, non se l'aspettava una scelta di questo tipo e si vede la grande sofferenza sia negli occhi che nelle parole del marito Jonathan in cui cerca all'inizio di capire i motivi e di reagire facendosi vedere forte ma poi cade e comincia a prendersela con tutte le persone che gli stavano intorno tra cui una coppia di amici che all'inizio della serie si vede che loro stanno a cena con questa coppia che aveva deciso di provare a salvare il loro rapporto facendo la scelta di essere una coppia aperta e quindi di frequentare altre persone rimanendo comunque insieme al partner. Fra i tanti problemi loro cercano di aiutarli e di consigliarli questi amici ma non riescono a consigliare se stessi, è forse il grande punto focale delle prime due o tre puntate. Allora può sembrare una serie lenta perché la cosa che è interessante è che ogni puntata è un giorno spezzettato nell'arco di diversi anni quindi tra una puntata e l'altra passano anche diversi mesi e ci si sofferma su un determinato giorno della vita di queste due persone e ci sono tantissimi dialoghi. Alcune puntate sono girate in una stanza, forse la maggior parte, in cui si vede che i due protagonisti parlano, parlano tantissimo e affrontano i problemi di una coppia contemporanea in un modo a 360 gradi, arrivando anche a dirsi cose pesanti, a rinfacciarsi cose, ma nonostante questo a voler tornare poi sempre dal partner e da quello che ti conosce meglio di tutti, dalla persona con cui sei cresciuto, con cui hai condiviso gioie e tristezze della vita. A un certo punto, e questo mi ha molto colpito, lei tornando, perché poi si trasferisce per lavoro lontano da loro, quindi lui si trova a dover fronteggiare anche il fatto di essere un papà, dover crescere questa bambina da solo, comincia ad andare in terapia, lui anche per farsi aiutare a reagire a una situazione che l'aveva veramente buttato giù. Lei è bravissima, Jessica Chalstein, in questa veste, l'avevamo vista nei film, più che altro aveva fatto dei film, c'era anche una serie su Netflix, Molly's Game, però devo dire, fa una parte molto profonda e molto realistica, perché se tutti si aspettano che fosse l'uomo a un certo punto, anche in una situazione matrimoniale, anche in una situazione genitoriale con un figlio, a perdere la testa per qualcuno e succede continuamente, ma anche alle donne però, non mi aspettavo fosse lei addirittura di innamorarsi, dire di innamorarsi di qualcun altro è una cosa molto forte. Nonostante questo, le due persone, le due persone che sono comunque cresciute insieme, che hanno condiviso tutto insieme, tornano sempre a ricercarsi e quando si rivedono dopo tanti mesi, si fanno una di quelle scopate megagalattiche e questo fa anche capire quanto ci sia simbiosi e quanto ci sia affinità tra due persone che si conoscono come nessun'altra e questo a un certo punto fa sembrare anche che si possa riaccendere la fiamma e far tornare la famiglia a rimettersi insieme, insomma a continuare su un altro livello, in realtà poi viene rimesso in discussione dal fatto che lui non vuole tornare a sentirsi come si sentiva prima a star male e a passare quel primo periodo subito dopo che lei se n'è andata in cui era stato veramente male e chiede quindi il divorzio. Non pensavo che la serie finisse nel modo in cui è finita, non starò qui a spoilerarvi il finale, vi consiglio di recuperarla e di vederla perché è veramente fatta bene e è un viaggio attraverso i sentimenti che ad alcune coppie potrebbe far male. Leggevo alcune recensioni online in cui dice non guardatela se siete già una coppia in crisi e che potrebbe avere problemi anche con il fattore gelosia e quindi potreste anche mettervi paura vedendo alcune cose che succedono quotidianamente ma la forza probabilmente anche di questa serie è che il grande messaggio è quello di affrontarle insieme, di parlare, di parlare, parlare, la comunicazione può essere la forza per affrontare i problemi e superarli insieme e una cosa che ho apprezzato tanto è che alla fine si torna sempre dove si è stati e non do nemmeno una colpa al fatto che queste due persone si continuino a cercare anche dopo il divorzio e che continuano anche a fare delle fughe di nascosto d'amore, quello è sempre il marito, quella è sempre la moglie e su questo nessuno può giudicare anche una scelta del genere di due persone che veramente si sono date tutto. Quindi consiglio di vederla e di vederla anche con occhi distanti dall'esterno senza farsi condizionare da quello che succede ma prendendo anche il buono che c'è in questa serie e il consiglio di affrontare perché i problemi ce li possono avere tutti e sono anche nelle coppie più belle, anche nella coppia del mulino bianco non c'è niente di perfetto. Voglio sapere voi cosa ne pensate, scrivetemelo nei commenti e continuate a seguirci su Ciak e Azione.